ciao a tutti oggi prepareremo il gelato alle fragole il tempo di preparazione della ricetta è di tre minuti circa gli ingredienti sono fragole congelate uscite 15 minuti prima di iniziare la ricetta latte congelato a cubetti uscito 15 minuti prima di iniziare la ricetta zucchero e succo di limone diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero semolato e lo facciamo polverizzare 10 secondi a velocità 10 adesso aggiungiamo le fragole aggiungiamo il succo di limone chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità da 6 e gradatamente saliamo fino ad arrivare a 10 adesso mescoliamo leggermente con la spadola probabilmente qualche fragola potrebbe rimanere ancora non tagliata bene chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10 adesso aggiungiamo il latte chiudiamo con il coperchio stavolta senza il misurino posizioniamo la spadola e azioniamo il bimbi per 40 secondi a velocità 7 spadolando il gelato alla fragole è pronto andiamo a servirlo subito gelato alle fragole grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti